Sono i moltissimi che vogliono guadagnare dal trading online, tutti sono accomunati da una passione che vorrebbe diventare un'attività a tempo pieno, oppure l'alternativa, la nuova vera attività, la promessa del vivere di trading. Ebbene, quello che state vedendo è il mio account, in questo video potete vedere che ci sono delle posizioni chiuse, 137 mila Euro in bassa o a destra, è il totale delle posizioni chiuse. Per chi mi conosce lo sa, ha seguito questa strategia Evolversy durante dirette, durante occasioni di vedere che tutto accadeva durante la notizia del FOM, che poi la notizia dei non far però, e abbiamo chiuso in diretta queste posizioni che vedete qua. L'account per carità è un account abbastanza ricco, perché è un account da un milione di Euro. Allora, quello che abbiamo avuto l'occasione di discutere durante queste dirette è sia la parte tecnica, sulla base della quale apriamo un'operazione, sia la parte psicologica, ma anche e soprattutto la parte strategica, cioè quando e come decido di tenere una posizione aperta non è solamente figlio dell'elemento tecnico di entrate, dell'elemento tecnico di uscita, perché altrimenti tutto si riduce a quella colonna portante dell'elemento strategia di trading, ma che non finisce. Sicuramente poi c'è una parte, una componente psicologica, perché tenere aperta una posizione e lasciarla correre spesso poi significa vedere un profitto che non hai chiuso e quindi una frustrazione derivante da ciò e quindi la parte psicologica deve essere addestrata separatamente e poi unita alla parte tecnica. Ed infine la parte strategica. C'era la possibilità, sulla base dell'elemento tecnico, di lasciar correre l'operazione. Ci ho creduto, l'ho fatto, non lo faccio sempre, non sempre sono nella condizione strategica di lasciar correre il treno. Cosa vuol dire? Parti con un'operazione sperando che sia sempre l'operazione migliore e vincente e che il mercato non solo vada dalla tua parte ma allunghi in maniera consistente dalla tua parte. Non è così. Il mercato non è che nella maggior parte dei casi è sempre in groppa un cavallo e bizarrito che corre con volatilità. No, nella maggior parte dei casi non è così. Quindi quando ti capita, quindi c'è già un approccio più diligente e razionale e ragionevole, quando ti capita allora quello è il momento di tenere botta e fatalità in quel momento sei sempre sfiancato o perché hai preso degli stop in più o perché non vedi l'ora di uscire dalla posizione perché alla fine hai paura che poi torna in perdita e non vedi l'ora che quando sei uscito ti senti meglio e ne apri un'altra. Quindi torni nella possibilità di andare in perdita. Quindi il nostro cervello è strano. Bisogna abituarlo ad avere un beneficio e uno dei benefici è che se sei dentro al mercato, sei inattivo, non devi cercare un nuovo trade da partire, da cominciare, da iniziare, licenza poetica da partire mi piace molto, con un nuovo rischio. Quindi stai lì col tuo airbag, stai lì che più guadagni, più l'esercito nemico è lontano e tu sei il generale sulla montagna che può vedere che cosa accade e vedrai che ne avrai un beneficio e preferirai essere in questa condizione di vantaggio favorevole da cui gestire l'operazione. Non avrai più paura di dover chiudere subito perché si trasformi in una perdita. Sei al mercato con un gigantesco airbag fatto dai profitti che hai fatto. Questo cambia il paradigma del metto lo stop, guadagno sempre ragionevolmente e non perdo, perdo poco lo stop e poi alla fine ne prendo una serie e vado giù lo stesso. Cambia l'entrata e l'uscita del flusso del danaro, profitti perri, te lo puoi fare con, senza lo stop, con tante posizioni, con pochi con una sola, è normale. L'andamento del tuo conto corrente in banca dipende dall'entrata e dall'uscita, è solo che noi siamo abituati a ricevere uno stipendio o vorremmo la regolarità. Il trading è un mestiere di impresa, non è detto che è fatto di regolarità, ma se io faccio 137 mila euro in questa operazione, beh posso aver speso del tempo facendo 2 mila, 5 mila euro ogni volta e alla fine mi trovo allo stesso punto. L'importante è che non ho necessità di dover mangiare, magari immediatamente pagarmi la spesa con quei soldi, mi devo dare il tempo. Però tenete presente che noi siamo abituati a riflettere nel breve periodo. Nel breve periodo cercando di chiederci dei risultati immediati. Allora io per distogliervi un po' da questa cosa vi leggo un capitolo di un libro che vi consiglio e che ho consigliato questa mattina anche ai miei codiciani, la mia community di trading. Però voglio, ci ho ripensato, anche in questo video dedicato a tutto il mondo, leggerlo perché è importante, è un modo che vi può stimolare di cambiare il paradigma secondo il quale noi vogliamo tutto e subito, abbiamo difficoltà a vedere risultati nel tempo. Badate qua il capitolo 4. Lo strano caso dell'interesse composto. Tanti ne parlano, sempre con i fogli Excel, mai facendo vedere un numero come questo. Attenzione. L'81,5 degli 84,5 miliardi di dollari che compongono il patrimonio di Warren Buffett sono stati guadagnati dopo il suo 65esimo compleanno. La nostra mente non è fatta per comprendere simili assurdità, è certo, perché noi vorremmo ottenere degli obiettivi assurdi in breve tempo che non ce la fa nessuno a fare, neanche quelli più bravi che avrebbero esperienza per farlo, che hanno capito che bisogna distendere la gamba e fare il passo lungo come la gamba, come dice mio nonno, e lasciar correre la palla in campo se avete una buona squadra di calcio. Attenzione, non è finita. Cito una parte del testo del capitolo numero 4. Jim Simons, penso si lega così, che dirige l'Hedge Fund Renaissance Technologies, genera dal 1988 rendimenti annui del 66%, allora anch'io non tradavo neanche io, però lui è più vecchio di me. Nessuno si avvicina neppure a questo record di quelli famosi. Come abbiamo appena visto, Buffett percepisce un rendimento di circa il 22% annuo, un terzo di quella cifra. Il patrimonio netto di Simons al momento della stesura di queste pagine appare a 21 miliardi di dollari, che va bene. Simons è il 75% meno ricco, immaginatevi si scriveva povero, di Buffett. E mi rendo conto che suona ridicolo, date le cifre di cui stiamo parlando, chiuso la parentesi, punto a capo. Come si spiega questa differenza se Simons è un investitore più bravo? Ebbene, perché Simons ha trovato la sua strada soltanto a 50 anni, che è una grande consolazione, perché questo mestiere non è un mestiere dove sei invecchi non lo puoi più fare, non è la velina, non è il calciatore. Ha avuto meno della metà del tempo per accumulare interessi composti rispetto a Buffett. Interesse composto è guadagnare un milione, adesso c'è un milione e due, posso rischiare un milione due in percentuale, posso metterci più soldi per crescere. Questa cosa non dovete vederla nella settimana, nel mese dell'anno, vederla negli anni. Se Simons avesse ottenuto i suoi rendimenti, ovvero il 66 all'anno, per i 70 anni che Buffett ha impiegato per costruire il patrimonio, virgola, oggi avrebbe aperta la parentesi, trattenete il fiato, virgola, per favore, chiusa la parentesi. 63 quintilioni, 900 quadrilioni, 781 trilioni, 780 miliardi, 748 milioni e 160 mila dollari. Datevi il tempo, datevi il tempo. Io non ho fatto questo risultato che ho consegnato, chiudendo le posizioni durante una live, non far payroll ieri, che era il 2 di luglio, figlio di un giorno, è una tradata che dura da qualche settimana, diverse settimane, e non ho fatto questo iniziando a fare trading ieri, la mia prima battuta l'ho fatta nel 97. Quindi non è che io oggi arrivo supponente a dirti guarda come sono bravo, mi sono fatto il mio mazzo, ho fatto i miei errori, ho superato i miei errori e come diceva Scorossi, io sono ancora qua. Per cui, dati il tempo, costruisci delle basi solide che ti danno la possibilità di arrivare a fare gol. Costruisci con dei passi che puoi fare, con una certa semplicità, la struttura che ti porta a poter dire la tua. Non guardare se tu con 1000 euro, 2000 euro domani non ci mangi. Fai il 10% l'anno di 1000 euro, il 20% l'anno, come Warren Buffett. Ma io non ci mangio con 200 euro, ma cosa stai dicendo? Convinci il tuo inconscio che si è trovato in casa una persona, cioè tu, capace di farlo. Fagli vedere che il tuo risultato è seriale, è costante, non ottieni questo perché sei uno spericolato. E quindi il caso oggi te li dà, domani te li leva. Non è che dici tanto sono 3000, che poi sono tra parentesi frutto e risparmio della mia vita, quello mi ha scritto un ragazzo sotto in chat, li ho persi, mi dà fastidio. All'inizio però probabilmente avrà detto, vabbè però dai, 3000 non mi cambiano la vita se non ce li ho, se diventano 30.000 invece sì. No, i 3000 li devi trattare come se fossero 3 milioni. Questa è l'unica grande verità, che cambia il tuo mindset e a questo punto ti fa impegnare a gestire quei 3000 come se fossero 3 milioni. Ma con il 10% l'anno di 3 milioni ci mangia e ci manda tutta la zia, la nonna, la scuola, non lavorano più. Con il 10% di 3000 no, sì. Ma se non fai il 10% di 3000 in un anno, in sei mesi, quel cavolo che vuoi ma non al giorno, non arriverai mai a fare il 10% di 3 milioni. Non ti darai il tempo, è come quello che gli dicono, sì mi serve una persona che ha 18 anni e 20 anni di esperienza, sì. Figurati. Munito di patente, 16 anni, non posso fare. Le ricerche di lavoro che guardavo io sul seconda mano, no? Esperienza decennale in però giovane che ti pago poco. E allora, cioè chi ha scritto questo annuncio? deficiente. Quindi non è una cosa da capire perché la capiamo tutti, è una cosa che deve arrivare al nostro inconscio, deve convincere il nostro stomaco, le nostre viscere affinché sia produttivo, affinché sia efficace e possibile. Fino a che pensiamo che tutto questo lo otterremo in niente di tempo, non andiamo nessuna parte. Tutti quelli che hanno ottenuto risultati sembra che li hanno ottenuti velocemente, certo. Fare dei fantamiliardi come quelli che abbiamo letto, anche in 80 anni, cioè o 50 anni, per carità, è niente, sì. Ma hanno costruito, hanno ottenuto degli obiettivi e dopo altri obiettivi sono andati avanti. Ragazzi, quando fate una cosa, non leggete, studiate, basta, quando fate una cosa vi si aprono tre porte, se vi si aprono tre porte avete altre nove possibilità ancora, se non fate non si apre nessuna porta, se fate ad cazzum dal latino non si apre la porta, si chiude, si rompe dentro la chiave nella serratura, sai che sfiglia, devi anche chiamare Fabbro. Quindi fate consolidate, fate consolidate, fate consolidate, a un certo punto il banco sarà tutto vostro. Questo è un segreto importante, che non è vero solo nel trading, ma che per chi mi segue è vero nel trading. Come potete vedere ho qualche cappello bianco, non solo, che non è frutto solo dell'invecchiamento, ma di esperienza, che io comunque mostro, perché in diretta se venite, io questa roba qua la faccio vedere, da quando il giorno 1 non andavo in diretta, sono andato sul mio primo palco a parlare di trading online. Conto corrente di trading, allora di 100.000 euro, allora i B, allora opzioni. That's it. Vi ringrazio per la vostra attenzione ed evidentemente vi aspetto.